Ciao a tutti, oggi prepareremo la bibita drenante energizzante. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zenzero, mele, arance, carote, miele, succo di limone e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zenzero e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Aggiungiamo le carote, le arance, le mele. Le facciamo tritare per 20 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'acqua. Il succo di limone e facciamo cuocere per 10 minuti a 100 gradi a velocità 2. Aggiungiamo il miele ed omogenizziamo per un minuto da velocità 6 a velocità 8. Omogenizziamo ancora per un altro minuto. a velocità 8. Lasciare raffreddare completamente prima di filtrare. Bibita drenante energizzante. Servire con cubetti di ghiaccio. Si conserva in frigo per 1 o 2 giorni. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.